Tecchi presenta Onori al Ministro dell'Inferno Il signor Ministro dell'Interno, il senatore Matteo Salvini, accompagnato dal signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli Il signor Prefetto della Provincia di Palermo, Antonella Di Mio e il signor Questore della Provincia di Palermo, Renato Cortese procede alla scopertura di una targa a marmorea recante all'infestazione dell'ufficio Scusate, una foto per favore Scusate, una foto per favore Scusate, una foto per favore Signor Presidente